Una trentina di mostre annullate durante l'ultimo anno. È l'impatto della pandemia sulla Galleria Comunale d'Arte della Molinella, importante centrale vetrina culturale della città, luogo di esposizione per artisti locali e non, per associazioni, realtà culturali e punto di riferimento per i principali eventi di Fenza. Trenta mostri in meno, uno dei tanti dati che dimostra l'impoverimento culturale dettato dalla pandemia fra il 2020 e il 2021. Per questo motivo il 2022 della Galleria della Molinella riparte con oltre 20 mostri in programma. Tempi più ristretti per poter organizzare un numero maggiore di esposizioni e recuperare il tempo perduto. D'altronde, in periodi normali, proprio a causa del grande numero di richieste, l'attesa della Galleria per un artista era intorno all'anno ed è quindi necessario dare una risposta alle domande arretrate. Il nuovo calendario delle esposizioni è già iniziato il 12 gennaio scorso con la mostra di Victor Fonsonier, giovane artista camerunense che ha deciso di stabilire a Fenza la propria attività. Il 3 febbraio inaugurerà la nuova mostra della Bendandiana dedicata alle cartoline del primo novecento ricevuti da Bendanti. Il 15 febbraio tornerà un appuntamento molto atteso a Fenza, una mostra che nel corso delle edizioni è andata sempre più crescendo come partecipazione e rilevanza artistica. Artegatto, artefatto, oggi coinvolge un centinaio di artisti fra ceramica, pittura, scultura, grafica, fotografia e altre tecniche artistiche. Il calendario della Molinella rappresenta una sorta di anticipazione sui principali eventi della città. Nel fine settimana del 14-15 maggio tornerà la nuova edizione di Buongiorno Ceramiche, il progetto nazionale promosso dall'Associazione Italiana Città della Ceramica che a Fenza metterà in mostra le produzioni delle botteghe faentine. Il lunedì successivo la Molinella tornerà a celebrare la 100 km del passatore nella speranza che l'ultra maratona torni a disputarsi lungo le strade di Toscana e Romagna. L'altro grande appuntamento faentino sarà il lungo weekend di Argillà dal 2 al 4 settembre che vedrà la Galleria ospitare mostre dal 24 agosto al 20 settembre. Il giorno successivo troverà spazio il MEI che celebrerà i lavori di Guido Creipax realizzati per il mondo della muschia. Il 2022 sarà il decimo appuntamento per la Biennale di Pittura organizzata dalla Proloco che nelle ultime edizioni ha accompagnato l'esposizione con un'asta per raccogliere fondi per restaurare un'opera della città. A novembre troverà spazio alla Molinella anche la Festa della Montagna del UEI che quest'anno raggiunge il traguardo della 55esima edizione festeggiando i 110 anni di fondazione dell'Associazione. Molte altre saranno l'esposizione alla Molinella. Tornerà all'Associazione il lavoro dei contadini la cui mostra due anni fa coincise con l'inizio delle misure restrittive per contrastare la diffusione della pandemia. Tornerà alla Molinella anche Nedo Merendi con una personale dedicata a lavori su Cata in grande formato. La trasformazione del paesaggio urbano ed extraurbano dalla fine del XIX secolo sarà il tema al centro di un lavoro curato insieme da regione, comune, biblioteca e fototeca manfrediana. Tanti altri saranno gli appuntamenti sotto il voltone. Luca Giacobbe, gli acquirallisti faentini, il Museo di Ocesano in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Barsavia, l'Associazione Gemellaggi, una collattiva di Marisa Facchiani, Claudia Coraddini, Bruno Graziani e Silvana Bissoli, l'Associazione Amici dell'Arte e poi ancora Luca Casadeo e Alessandro Turoni. Chiuderanno l'anno Giovanna Compagnoni e Daniele Piancastelli che celebreranno i 40 anni di attività del loro laboratorio ceramico Pico-Fenza.